mamma mia una bomba ho appena tirato in ground con 120 grammi senza ditale e con una montatura dello 0,50 come mai se l'avessi fatto con la cassiopea 250 mi sarei avrei esploso sia o il dito o la montatura invece con la cassiopea xcm 160 ho trovato un ottimo compromesso per raggiungere distanze mostruose con piombi e assetti molto più leggeri quindi piombo da 120 grammi montatura dello 0,50 anziché dello 0,70 a buon pro dell'azione di pesca una soluzione da non sottovalutare